Questa è una partita difficile, nel senso che dopo che siamo andati in vantaggio credo ci siamo abbassati un po' troppo. Sicuramente per livello fisico, insomma, per modi fisici, perché comunque è al primo tempo, quindi forse inconsciamente dopo il gol e il vantaggio abbiamo pensato un po' più a difendere. Però comunque penso alla Salernitana alla fine mancano le occasioni nitide, secondo me l'ha avuta la Salernitana, però c'è anche da fare un merito agli avversari. Prima della partita eravamo convinti e comunque la nostra voglia era quella di vincere. L'ho andato in vantaggio, purtroppo li siamo fatti riprendere, però è andata così, è importante da domenica ricominciare.